Come vedete nel programma abbiamo dato dei titoli a ognuno dei colloqui e sono un po' la traccia che ci proponiamo di seguire, o quantomeno un'evocazione del mondo di cui viene qui a narrarci qualcosa il nostro ospite. Proprio per come organizziamo queste conversazioni, questi colloqui, qui non c'è il tavolo dei relatori, non ci sono presentazioni powerpoint, sono appunto solo momenti in cui si stenzia e ci si scambiano delle storie, delle esperienze. Proprio per questo il titolo è una proposta dell'ospite e quindi noi se guardiamo qui il percorso dalla finanza e dal controllo allo sviluppo delle risorse umane. Ora, un modo per cominciare, secondo me, a dire che in molte realtà, anche realtà che a me capita di conoscere, credo che ne conosciate sicuramente alcuni anche voi, il direttore finanza e controllo, anzi ormai bisogna dire CFO, bisogna dirlo in inglese, se no non vale, è un interlocutore del direttore del personale, talvolta potremmo anche dire nei rapporti dialettici tra tram manager così, ostile, perché è quello che a nome di una, magari adesso faccio un esempio un po' limite, ma si capisce la situazione così, di una proprietà un po' lontana, di uno shareholder, definisce il monte retributivo che ha a disposizione delle persone. Retribuzioni, formazione, tutto. Cioè pone semplicemente dei limiti e quindi le persone sono viste come un costo e il mandato al direttore del personale dato dal CFO è di stare dentro quel costo. Adesso l'ho un po' semplificata, ma una tendenza di questo tipo esiste. Allora, è interessante vedere che qui c'è un direttore del personale che però, appunto, mi pare di capire, proviene dal mondo. Vengo dal controlling. Ecco, sì, diciamo, da quel mondo. E quindi, come vede questa situazione? Grazie, grazie a Denevito e grazie a voi della partecipazione innanzitutto. Se noi guardiamo un bilancio, i principali numeri che ci vengono all'occhio sono quanto un'impresa fattura, quanti sono i suoi investimenti, piuttosto che i costi. Una parte importante del costo è quella del personale. e mi vado un po' indietro con di qualche anno e l'occhio del CFO è di dire il personale vale, ok, il 20% del fatturato. E si comincia a fare una serie di considerazioni che poi vengono poi mandate di shareholders, eccetera. L'occhio dell'HR, quando guarda questo 20%, facciamo per esempio 100 milioni di fatturato, 20 milioni di costo del personale. Dice, ma cosa c'è dentro il costo del personale? Quindi apro una scatola che dal punto di vista di indicatore è un numero, ma dentro c'è una torta con tante variabili, che sono appunto le risorse umane. Viste come, ok, un costo a bilancio è un costo, ma per me o per l'azienda oppure per l'imprenditore che crede nelle risorse umane è un costo che deve essere in maniera magica, permettetemi la battuta, trasformato in una risorsa, una risorsa che crea valore aggiunto. Non ho, nelle nostre aziende, non ho del personale a bordo per vocazione, ma perché mi servono determinate posizioni e in certi ruoli. Ecco, monitorare come i miei asset industriali, che tipo di risorse ho, cosa mi servono, permettetemi, io uso anche dei termini crudi anche nel paragonarmi un macchinario con il personale, è solo un discorso di concetto, mai poi mai paragono un asset industriale con un asset legato a risorse umane. Però devo capire che tipo di asset ho. Un'impresa, a volte si visita un'impresa, si fa una camminata e si guardano investimenti tecnologici, i macchinari, gli impianti o addirittura si parla dei brevetti che ci sono dentro, eccetera. Quindi sono messi a bilancio? Sono come asset, a bilancio sono asset, quindi benvengono questi. Un'impresa è forte perché ha certi asset, ho un finanziatore che riesce a buttare sul tavolo delle risorse finanziarie per acquistare degli asset. ma ho bisogno anche di avere a bordo la giusta risorsa umana per andarmi a gestire e creare valore aggiunto con quegli asset. Io riporto delle frasi, se ne sentite, nel mondo dello sport, l'automobilismo da Montezemolo o da Tronchetti Provera, che dice, ma perché avete questi, quando la Ferrari ha avuto dei bei successi naturalmente, perché avete avuto questi successi? Qual è la vostra chiave? E ha detto, è il nostro team, è la passione, la passione che abbiamo per fare un mestiere. Mi permetto di fare un altro esempio molto semplice. Quante volte nel nostro pur parler, diciamo, due imprese che hanno un buon socio finanziatore, hanno un prodotto simile, quindi un mercato abbastanza simile, una riesce a fare profitto, l'altra perde. Una delle maggiori cause è dovuta a chi mi gestisce questa azienda, che non è solo il general manager o l'imprenditore, ma è tutta la filiera delle mie risorse. Se riesco a fare in modo di avere delle persone dalla parte mia, ci sono degli imprenditori illuminati che con quattro cose sono riusciti a fare un'impresa di eccellenza, senza andare nelle multinazionali, voglio dire. Ecco, allora adesso, lei come venendo, come si è sentito? Perché un certo giorno mi hanno detto che non magari... Ma io ho coltivato l'HR anche da controller. Quindi in un'impresa facevo il CFO, come diceva il dottor Varanini, dove la risorsa era gestita da me, che ero più finanza e controlling. Però forse l'azienda a cui appartengo, ZF, una fondazione, qui di conseguenza la fondazione Zeppelin, quindi l'attenzione del socio umano è un po' particolare. L'azienda tedesca, a mio avviso, ha un imprinto un po' diverso, proprio come DNA, investe molto. Noi abbiamo avuto un'azienda che, ahimè, in questo momento di crisi, siamo anche noi coinvolti, ma una delle voci che non abbiamo mai tagliato è quella della formazione e sviluppo. Questo, by definition. Piuttosto taglio altri tipi di spese, giro con metà delle luci negli uffici o nello stabilimento, ma non taglio certo la formazione e lo sviluppo. perché devo coltivare le mie risorse e devo avere a bordo le risorse giuste. Non tutti il 100% delle mie risorse le considero asset. Permettetemi, devo discernere quelli che sono i miei asset, chi sono i miei asset. Quindi devo saper monitorare. Quando acquisto una macchina o un utensile, i miei colleghi tecnici, la prima cosa è che guardano il macchinario, leggono i vari manuali di uso, manutenzione, di performance, di utilizzo, la prima cosa che ho fatto e comunque stiamo coltivando è di avere un monitoraggio delle mie risorse, non nome e cognome. Cosa sa fare? Cosa mi serve? Lo sovrappongo? Quali sono i gap eventualmente che devo colmare? O con interventi miei di azienda o eventualmente non ho la risorsa con quello che mi può aiutare il mercato. La medesima cosa è di un'analisi del mercato. Che prodotti ho? Posso offrire il mercato? Cosa vuole il mercato? Se non li ho li devo costruire. La medesima cosa è le risorse umane. Quindi, esemplificando, stiamo gestendo il personale non come un costo, che è in me un costo, e quindi vado dal collega CFO che mi dice devi stare entro a certi target, ok, ma dammi la possibilità di essere un ente di servizio ai colleghi dell'engineering, della produzione, della qualità, eccetera, eccetera. E quindi, però si potrebbe anche dire che è solo una questione di consuetudine contabile il fatto di considerare la risorsa umana come costo, perché in realtà poi dopo ci sono tutti gli elementi per considerarlo come asset, come investimento che dura nel tempo, che dà frutti solo se viene coltivato. non per niente quando in qualsiasi impresa, anche in casa mia, quando ho bisogno di un qualcosa, vedo cosa mi serve, cosa mi offre il mercato, cosa ho già in casa, eventualmente. Quindi, idem per le risorse umane. Se devo portarmi con un prodotto, faccio un esempio della nostra realtà, noi facciamo meccanica, stiamo passando dal concetto di meccanica e meccanica servita all'idraulica, in meccanica e meccatronica. Quindi l'elettronica che serve alla meccanica. È una trasformazione importante, è un cambio culturale e non posso affrontare questo se non ho le risorse adatte. Se non le ho, le prendo dall'esterno. O noi abbiamo la fortuna di essere un gruppo internazionale, ho in casa mia dei colleghi di altre realtà che già hanno sviluppato questo che insegnano ai miei uomini. Quindi è un trasferimento di know-how. Senza di questo, posso investire nel macchinario più sofisticato che ho sul mercato, ma se non viene correttamente utilizzato, non riesco a a pormi a seguire la strategia, perché poi questa è una strategia che dovrebbe nascere dal gruppo manageriale o dall'imprenditore. Dove voglio arrivare? Ho le risorse, benissimo, finanziarie, perdon, tecnologiche e anche risorse umane. Ecco, una cosa che forse ci puoi raccontare utilmente, proprio perché c'è dietro anche questa tradizione tedesca, un po' diversa dalla nostra, è, visto che non esiste lo strumento diciamo contabile in senso stesso per gestire questo asset, perché non è come per le impianti, c'è l'ammortamento, c'è tutta una tecnica contabile che permette di gestire nel tempo l'asset. Per le risorse umane come fate? C'è una, potremmo dire tra virgolette, contabilità particolare, ci siamo costruiti noi. Ecco, sapere quanto vale in questo senso qui una persona come potenziale o quanto è stato investito su di lei, avete una sorta di contabilità parallela? Non è una contabilità in euro, ma è un trasformare questo che è un argomento tipicamente intangibile, quello delle risorse umane, in un indicatore da 1 a 5 come uno preferisce ed è il grado di soddisfazione del responsabile una volta che un suo collaboratore fa un percorso di formazione. Un esempio, Mario Rossi deve seguire il mercato estero, deve sapere la lingua inglese, non la sa, gli passiamo un percorso di. Alla fine è il grado di soddisfazione valutato dalla responsabile concordamente con il dipendente del raggiungimento di un obiettivo. Quindi, se da 1 a 5 Mario Rossi dopo un full immersion riesce a svolgere il suo ruolo, per me, se ho speso x mila euro di formazione, ho raggiunto il mio obiettivo. è una cosa tarata ad personam, perché alla fin fine abbiamo delle esigenze, è per questo che deve essere un progetto condiviso dal management, perché ogni dipartimento deve pensare in questo modo. Quindi, l'R&D piuttosto che le sales o la produzione deve concordare, dobbiamo concordare insieme con le risorse umane, quanto la sua risorsa è conforme alle sue esigenze, che è diversa da quella che può avere un mio collega su un'altra azienda. Quindi, ripeto, non è un valore assoluto, è un valore relativo, però ci sforziamo per avere un grado di soddisfazione dei 100 mila o fischi a euro che l'azienda mette ogni anno su formazione, sullo sviluppo, eccetera, eccetera. Così anche il management che partecipa, partecipiamo a gruppi di lavoro, di formazione, di corporate in generale GR Ermania, c'è un grado di soddisfazione del nostro intervento formativo da parte del nostro CEO. Cioè, siamo valutati e siamo in linea, facciamo una sorta di radar, siamo in linea con le aspettative o no. Con questo modo qui si costruisce un quadro complessivo delle risorse con il loro... ho un tablò del BOR, se ho 100 risorse, non ho solo il nome e cognome, il codice fiscale e la retribuzione, cosa che abbiamo tutti, ma ho anche una parte legata alla gestione della risorsa, nei capire le caratteristiche di questa risorsa. Noi stiamo anche, vedo che il tempo corre, ma volevo dire, stiamo anche valutando con un gruppo di aziende di Asso Lombarda di fare una sorta di patentino su aziende con aziende certificate, un patentino di qualificazione, tipo il vecchio il vetro di lavoro degli anni 60, che oggi non serve a niente, forse non è mai servito a niente, se Mario Rossi è capace di lavorare in questa tipologia di macchinari, come lo è in ZF, lo può essere anche in Fiat. questo è un progetto che stiamo così pensando per dare visibilità alla gestione della risorsa umana, non solo all'interno della mia realtà, ma trovare una sorta di cross function comune nelle aziende manifatturiere che abbiano un tipo di certificazione per cui una qualificazione ha un valore anche su altre realtà simili alla mia. Questo è un valore aggiunto, per me quindi si fanno anche scuole in un certo senso dobbiamo fare, l'impresa giocoforza ha un ruolo sociale nel territorio in un modo o nell'altro e quindi anche questo può aiutare in un momento di crisi e ripartiamo da le risorse, ripartiamo cos'è la risorsa che non è solo un indicatore di bilancio ma è qualcosa che mi permette di creare valore aggiunto, se ho quelle giuste e a far dell'azienda e il management è nostra responsabilità capire cosa mi serve se ho le risorse giuste e come quando faccio un intervento finanziario quali sono le coperture finanziarie a fare un tipo di operazione il mercato mi offre questo e il mercato delle risorse umane mi offre questo e a farmi capire come lavorarci. questo accenno con questo poi chiudiamo ma è interessante a come le aziende da sole si organizzano per creare questo sostituto del libretto perché ci sono tanti anche progetti sui libretti formativi tutto questo ma sono cose che restano molto astratte invece questo bilancio delle competenze fatto su degli indicatori precisi che concordano tra di loro le aziende mi sembra un passo interessante perché è una cosa semplice ma direi che attraverso il canale per esempio di Confindustria stiamo valutando di poterlo allargare almeno in un network di aziende appartenenti a un medesimo sistema Confindustrial ma questa è un'esperienza può essere anche altri tipi di network che si può avere in Germania c'è già qualcosa in Germania abbiamo scoperto l'acqua calda perché in Germania esiste già questo da sempre come io mi ricordo permettetemi mi hanno intervistato perché ZF Pado ha fatto l'orario flessibile dieci anni fa articoli su Sole 24 ore su Repubblica per carità non venite più a seccarmi con interviste perché abbiamo copiato quello che hanno fatto in Germania negli anni 60 né più né di meno non perché loro sono più bravi è un elemento che maggior vantaggio loro stanno copiando per noi lavorare insieme farci affare farci network almeno nell'intercompany ZF siamo 120 aziende in tutto il mondo almeno ci aiuti di copiarci le cose migliori uno dell'altro e vedere l'applicazione nei termini nelle normative e anche nella cultura di impresa che l'Italia ha rispetto alla Germania o agli Stati Uniti grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi